Cassiglion Fibocchi torna a celebrare la Madonna del Rosario con quattro giorni di eventi che hanno coinvolto l'intero paese. In occasione della festa della Madonna del Rosario, il borgo si è anche tinto di rosso, Rosso Ferrari. Nella sala del Consiglio Comunale ha infatti trovato spazio e una mostra dedicata ad uno dei marchi storici dell'industria automobilistica italiana, organizzata da Kamae, presente anche l'ingegner Luca Marmorini che per anni ha lavorato in Ferrari. Direi di dare, come ricordo di questa manifestazione, l'ingegner Luca Marmorini, il modellino del primo motore nascosto. Non credo che tu ce l'hanno perché l'abbiamo fatto fare apposta, girate. Domenica, infine, la prima mostra a mercato dell'antico bestiame. Quest'anno è stata una grande sfida portare nella nostra festa qui a Castiglion Fibocchi per la Madonna del Rosario rievocare la vecchia fiera del bestiame. Ce l'abbiamo fatta, è una grande tradizione che ho voluto portare avanti grazie alle associazioni, alla collaborazione di tutti, degli allevatori. Siamo riusciti a portare finalmente gli animali, gli animali da cortile, le chianine, per rievocare le nostre tradizioni da dove veniamo e far conoscere anche ai giovani le nostre tradizioni. Grazie. Grazie.